Juve Maccabi Haifa 3-1, Chelsea-Milan 3-0 Questo è il risultato delle partite di ieri di Champions League italiane che comunque nonostante la sconfitta del Milan hanno avuto un martedì o un mercoledì di Champions più che positivo La Juve fa i primi tre punti nel suo girone, il Milan trova una brutta sconfitta a Stamford Bridge contro il Chelsea Una sconfitta che però non deve far perdere sicurezza al Milan di Stefano Pioli e soprattutto una sconfitta che ci può stare nel complesso Viste le tante assenze in casa Milan, visti i tanti impegni ravvicinati, vista l'imminente sfida contro Juve in campionato e il ritorno di martedì a San Siro Dove però il Milan non potrà assolutamente sbagliare Detto ciò, buongiorno a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale Qui è il vostro Andrea che vi parla e vi dà il benvenuto ad un nuovissimo video Ci tenevo a fare innanzitutto ringraziamenti per il grandissimo sostegno che sta continuando ad arrivare il canale Siamo alla soglia dei miei primi 100 iscritti e sono veramente molto contento Un canale che è nato meno di due mesi fa E stanno per arrivare i primi 100 iscritti ed è una grandissima grandissima soddisfazione Spero che cresceremo sempre di più, io mi impegnerò al massimo E nei video che faccio quotidianamente E anche nel supportare, nel continuare a supportare sempre le live che facciamo con i ragazzi del Branco E quindi il programma, la dana del Branco, continuerà e speriamo che cresca sempre sempre di più Detto ciò, parliamo brevemente delle partite di ieri Allora, ho visto il Milan, non ho visto la Juve Ho visto poi degli highlights della partita di Torino Partiamo proprio da quello per poi parlare leggermente più approfonditamente di Chelsea-Milan Allora, la Juve finalmente vince, vince 3-1 Vince una partita che agli occhi di tutti poteva sembrare semplice Ma si sa, in Europa non è mai semplice, non è mai semplice vincere Non è mai semplice convincere E la Juve ha fatto il suo Doveva vincere, lo ha fatto, è la seconda vittoria consecutiva tra Campionato e Champions È la seconda partita consecutiva in cui la Juve comunque segna 3 gol Segna ancora Dusan Blaovic, si sblocca Rabiot con una doppietta Ma la star indiscussa della serata è il fideo Angel Di Maria Angel Di Maria che dimostra una certa attitudine con questa competizione Quindi con quelli che sono gli appuntamenti europei È indubbiamente il giocatore con maggiore classe e sicuramente maggiore fantasia all'interno della Rosa È stato comprato per questo Si attende ancora Pogba e il rientro di Chiesa, più o meno imminente Visto che ha iniziato ad allenarsi leggermente con la squadra Una Juve che, ripeto, ha fatto il suo Ha trovato i gol negli inserimenti dei centrocampisti Sembra stia provando a fare qualcosa di nuovo E sicuramente con il Di Maria che abbiamo visto ieri sera Tutto potrebbe essere più semplice In campionato deve rialzare la testa ma tutto il tempo Per quanto riguarda il giorno di Champions è un po' più difficile Visto anche il pareggio del Paris Saint Germain in Portogallo Che porta il PSG e il Benfica a 7 punti e la Juve terza a 3 punti Dovrà sicuramente vincere il ritorno col Maccabi e poi andare a vincere in Portogallo E cercare, secondo me, anche di fare punti in casa col PSG Lo può fare, abbiamo visto il PSG anche ieri Comunque una squadra che si specchia tantissimo È una squadra forte, fortissima L'abbiamo visto all'andata al Parco di Principi Ma secondo me attaccabile e vulnerabile Se la Juve gioca un certo tipo di calcio Quindi Juve-Maccabi 3-1 La Juve mantiene aperto il discorso qualificazione Seppur difficile Passiamo invece alla sfida dello Stamford Bridge Allora, io sono sincero Per me era una disfatta dichiarata Nel senso che Non perché io non abbia fiducia nel Milan Tanto che ho detto che secondo me potrebbe vincere a mani basse questo girone Ma perché le tante defezioni E le partite una dietro l'altra Anche l'ultima partita a Empoli Comunque è stata una partita in cui il Milan Ha fatto un grandissimo sforzo fisico Gli uomini di Pioli sono contati per i tanti infortuni Comunque ricordiamo che non c'erano tra i tanti Teo Hernandez e Magnan Che sono due giocatori più che fondamentali In questo Milan È andata a giocare una partita contro una squadra Che comunque nonostante le difficoltà Che ha avuto dall'inizio del campionato Ha cambiato gestione tecnica Ma viene da una gestione vincente come quella di Tuchel Con cui ha vinto una Champions Ha vinto un Mondiale per Club Una squadra ricca di talento Ricca di campioni Una squadra che Poi ha con gli investimenti fatti Aumentato ancora Quello che è il tasso tecnico E che è sicuramente Di un'altra sponda rispetto al Milan Se andiamo a vedere la rosa a livello qualitativo Milan che aveva approcciato anche bene la gara Con ottimo ritmo Con grande coraggio E i primi 15-20 minuti Aveva messo sotto il Chelsea di Potter Questo sì è da dire È obiettivo Poi però Ha trovato un paio di situazioni sfavorevoli Su una pala inattiva Il Chelsea ha sbloccato la partita E da lì in poi È stato duro per il Milan È stato veramente dura Perché Il Chelsea ha aumentato il tasso tecnico Fisicamente sembrava più brillante Sappiamo che il ritmo E in Europa Ma anche Delle squadre inglesi È sicuramente più alto Rispetto a quello che c'è qui in Italia E poi Ovviamente Se la differenza fisica È appianata Il tasso tecnico Sicuramente viene fuori E ieri Il Chelsea Non ha fatto altro Che esprimere il suo maggior tasso tecnico Poi sicuramente Ci sono stati degli individuali Degli errori individuali Per quanto riguarda il Milan Soprattutto in occasione del gol Anche di Aubameyang C'è stato il bobo di Tomori Qualche rimpallo nel gol di James Comunque un 3-0 Che tutto sommato Vedendo la partita Come si è sviluppata Ci può stare Io non farei Non ne farei grandi drammi Perché il Milan Ci ha dimostrato Nel tempo Di essere una squadra Che non solo quando cade Sa rialzarsi alla grande Ma soprattutto Che ha tutte le carte in regola E per andare avanti Tranquillamente in campionato Adesso avrà subito Il modo di rifarsi Visto che c'è il big match Con la Juve Questo weekend E poi Sicuramente a tutto il tempo Vedendo anche La situazione di classifica Che vede Salisburgo Chelsea e Milan Praticamente appagliate Con un solo punto Che le divide Può giocarsi Le sue chance Tranquillamente Per passare il turno Anche perché Dovrà giocare È vero Con la Dinamo Zagabria fuori casa E quella sarà una partita tosta Però giocherà con Chelsea E Salisburgo A Milano E questo può fare Tutta la differenza del mondo Con lo stadio pieno Che Comunque ti sostiene San Siro pieno Non avvolge Lo sappiamo bene E ha fatto le fortune del Milan In questi ultimi due anni Detto ciò Sicuramente Il progetto del Milan Continua Continua a crescere Si aspetta ancora Il miglior de Cadelera Anche ieri Non benissimo Leao ha provato a fare qualcosa Ha avuto degli spunti interessanti Ma sicuramente Deve migliorare Anche a livello europeo Perché in Italia Ormai è una garanzia Ed è un giocatore Che fa tutta la differenza del mondo In Europa A certi livelli Si deve ancora affermare Ma sono sicuro Che Raffaele Leao Con il suo grande talento E la sua grandissima classe Non Non ci metterà molto Ad ambientarsi A quel palcoscenico Che è suo di diritto Che lo vedrà Protagonista Da qui a Non so quanti anni di carriera Perché Leao È veramente un giocatore Imprescindibile Per questo Milan Si spera Rientri Almeno Teo Hernández Per la sfida E con la Juve E con il Milan E con il Chelsea Di ritorno martedì Perché comunque Anche lui Può dir la sua Balloturè Che ha giocato Una partita Non sufficiente Secondo me ieri A Empoli Aveva fatto Una buona prestazione Aveva trovato anche il gol Però Teo È tutta un'altra cosa Non sono io Che ve lo devo dire Però ho fiducia Ho grande fiducia In questo Milan Nel progetto tecnico Come hanno parlato Anche i ragazzi In live L'altro giorno Il Milan è una realtà Splendida del calcio italiano E per soluzioni trovate A poco prezzo E perché comunque Ha una struttura societaria Che gli permette Di sostenersi Autosostenersi E di andare avanti Tranquillamente Non sarà sicuramente Un 3 a 0 A Stanford Bridge Contro il Chelsea E quindi no Un 3 a 0 Qualsiasi A incrinare Il percorso Di questa splendida squadra E del suo Fantastico allenatore Detto ciò ragazzi Questo era il mio Pensiero sulle partite Di ieri Adesso ci aspetta Oggi L'Europa League La conferenza Delle italiane Con Roma Lazio e Fiorentina In campo Poi una bellissima Giornata di campionato Nel weekend Torneremo in live Credo domenica Ma poi Vi aggiorneremo Negli shorts O comunque Nei video Che seguiranno Questo qui E niente ragazzi Vi ricordo di mettere Un like Iscrivervi al canale Arrivare a quota 100 Quota 100 iscritti Uscirà sicuramente Un video Per uno speciale 100 iscritti Che sono pochi Ma per me Sono tantissimi E niente Attivate anche La campanellina Iscrivetevi al gruppo Telegram Che lascio qui sotto Nel link in descrizione E per questo video È tutto Un abbraccio E ci vediamo Al prossimo video Un abbraccio Un abbraccio